Oggi parleremo di notebook economici con questo Acemagic AX15 Ciao amici benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di notebook che era da un po' che non lo facevo andando a vedere questo AX15 che è nella fascia under 300 euro, io l'ho pagato 299 euro su Amazon offre un prodotto davvero interessante, infatti abbiamo un Intel Aderlake N95 decisamente più performante dei serrano 4102 o anche del 5105 16 giga di RAM in single channel DDR4, poi abbiamo un SSD da 512 giga 4 port USB, tutto questo in meno di 1.7 kg con scocca in alluminio non in plastica come è solito in questa fascia di prezzo direi semplicemente fantastico ma prima di andare a vedere questo Ace AX15 di casa Acemagic solito momento supporto, lasci tu un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuna novità e ovviamente commentate perché il vostro parere è importante e seguitemi su TikTok dove porto guide, trucchi e consigli in meno di un minuto per qualsiasi dubbio o consiglio scrivetemi poi su Instagram o nel gruppo di supporto Telegram aiuto veramente tutti i link al solito li trovate sotto in descrizione dove trovate anche il mio nuovissimo canale Whatsapp dove ci sono tutte quante delle guide e le mie recensioni ma non perdiamoci in chiacchiere andiamo a vedere un po' più da vicino questo notebook da 15 pollici all'interno della scatola troviamo ovviamente il nostro notebook manuale utente è presente anche l'italiano anche se mi segue sa che vorrei fosse sostituito un bel QR code pensiamoci veramente alla natura l'alimentatore Type-C da 40 Watt e 19 Volt 2.1 Ampere una cosa che ho trovato veramente molto comoda sono questi copri tastiera ci sono in diversi layout è presente ovviamente anche quello in italiano che ci permetteranno di andare ad adattare la tastiera del nostro notebook secondo le esigenze del nostro paese pure molto comoda in quanto va a proteggere l'usura dei tasti andando pure a conferire un aspetto decisamente più carino rispetto ai soli adesivi che comunque vi lascio sotto in descrizione come potete vedere nemmeno ci si accorge che c'è questo panno davvero molto comodo anche se per amici un po' nella digitazione si sente ma niente di così trascendentale la prima sensazione è che sia tenendola in mano è quella di avere un dispositivo non di fascia economica e tutto quanto in metallo come potete vedere tutto sembra al suo posto anche se nel momento in cui lo si apre o lo si va a utilizzare cari amici qualche scricchiolio si va a sentire ed è una qualcosa tipica di questi dispositivi abbiamo uno schermo da 15.6 pollici IPS full hd poi troviamo 16 giga di ram ddr4 2600 mhz qui si poteva fare qualcosina di meglio sia adottando le più performanti ddr5 che sono supportate dal processore sia andando ad utilizzare eventualmente ddr4 a 3200 mhz che tra l'altro appunto sono sempre supportato dal processore niente dual channel il processore non lo supporta e niente upgrade di memoria per più di 16 giga appunto il processore si limita a questo processore che è un intel Adelaide 95 già provato in diversi mini pc mi è piaciuto è un processore che su questi dispositivi di fascia abbastanza economica a me piace e non poco troviamo poi 512 giga di ssd andremo a vedere tra poco come si va a comportare oltre che una scheda video integrata intel ultra hd per quanto riguarda l'autazione di porte abbiamo sul lato sinistro una porta di tipo c che funge anche da alimentazione usb 3.1 hdmi sport il 4k un'altra porta usb tipo c poi troviamo led di stato e funzionamento del hard disk sull'altro lato jack 3.5 mm per le cuffie o le casse un'altra porta usb 3.1 porta usb 2.0 e lettore di micro sd anch'esso 2.0 non velocissimo comunque l'autazione a mio avviso è veramente completa per quanto riguarda le dimensioni abbiamo 33.9 x 22.9 per uno spessore che era amici nella parte più alta di 1.9 cm e un peso di 1.7 kg lato autonomia la batteria è da 38 wattora non grandissima con l'umestà del 75% rilevato un consumo di circa il 15-16% ogni ora con il wifi acceso e utilizzando applicativi web o la suite office e visualizzando video arrivando a sfiorare le 6 ore di autonomia quindi un valore a mio avviso più che buono ovviamente con un utilizzo più spinto alias progettore al 100% che difficilmente si andrà a replicare nell'utilizzo reale io ho fatto lo stress test per vedere le persone sottocariche quindi ce l'ho portato ma questo è un altro ragionamento dicevamo in condizioni normali la batteria dura 6 ore andando a stressarlo al 100% circa 2 ore quindi l'auto autonomia è pienamente soddisfatto la batteria ci riporta al charger come dicevamo è un 40 watt tipo C non me lo aspettavo pensavo a un connettore proprietario carica il nostro notebook poco più di 2 ore ma è un'ora fa lo 0,75% quindi anche la velocità di ricarica mi è piaciuta andando ad aprirlo notiamo subito che l'interno è in policarbonato e qualche schicchiolio si sente l'assemblaggio non è dei migliori ma dobbiamo sempre ricordarci il costo di questo dispositivo la struttura che va a ospitare la webcam cari amici lo potete vedere qui ora cerco di mostrarvela un po' meglio come potete vedere è in plastica le conici ci sono ma vanno a ospitare la webcam che ha una risoluzione di 720p per quanto riguarda la tastiera abbiamo un layout inglese ma come vi ho mostrato possiamo andare a utilizzare questo copri tastiera che va a risolvere il problema quindi c'è anche quello francese spagnolo e anche tedesco su questo punto di vista non abbiamo l'handicap di andare a utilizzare il layout US non è retroilluminata sente subito che è economica anche se il connubio tra spaziatura e tasti a me è piaciuto poi c'è il tasterino numerico che è sempre un valore aggiunto in questi dispositivi una cosa che non mi piace è che c'è il tasto invio a dimensioni ridotte io sono vecchio stampo e tendo sempre a premere un tasto che non è quello corretto il tutto è un po' plasticoso ma i concorrenti con questa cifra cari amici posso garantire che non vanno sicuramente di meglio nell'angolo qui in alto abbiamo il tasto di accensione che bene si integra con tutta quanta la tastiera poi qui in basso a sinistra un QR code che ci riporta all'assistenza veramente cari amici molto ma molto comodo touchpad buona dimensione 13x8.7 cm con superficie come potete vedere opaca che sfrutta in modo eccellente lo spazio sotto la tastiera il click è udibile anche se le dita scorrono relativamente bene ed è semplice utilizzare il gesto di sistema comunque siamo lontani dall'eccellenza ma è inutile parlare di eccellenze su un notebook che costa meno di 300 euro a mio avviso l'utilizzo del mouse è la cosa più appropriata per questa tipologia di dispositivi il display è da 15.6 pollici di diagonale PS una risoluzione full hd 1920x1080 un formato 16.9 che non mi fa impazzire la superficie non è touch ma il rivestimento opaco è ben realizzato i riflessi sono davvero ridotti al minimo lo schermo cari amici non è cattivo per la fascia di prezzo ma i colori sono davvero poco accurati ed è da escludere anche per modificare il volo in Photoshop per l'utilizzo tipico d'ufficio nessun tipo di problema per quanto riguarda l'audio ora ve lo faccio sentire per quanto riguarda l'audio abbiamo due speaker posti sotto il poggia polsi cari amici li potete vedere qui ci sono le feritoie l'audio riprodotto è sufficiente per ascoltare qualcosa al volo i bassi sono completamente assenti predominano alti e medi per esperienza migliore il mio consiglio è di usare o delle cuffie o delle casse esterne vi lascio delle possibili alternative sotto in descrizione ma ora cari amici smontiamo così lo andiamo a vedere un po' più da vicino cari amici abbiamo tolto la parte inferiore veramente molto semplice basta svitare queste viti saranno vicina in tutto sono tutte quanti uguali quelle che cambiano in dimensione sono queste due esterne praticamente cari amici abbiamo un layout estremamente compatto qui abbiamo il sistema di raffreddamento il banchetto di memoria che io mi aspettavo fosse risaldato invece è sostituibile anche se cari amici più di 16 giga non possiamo andare eventualmente potremmo mettere una ram un po' più veloce ma non avrebbe molto senso il brand io non lo conosco è la seconda volta che smondo questi tipi di computer già nel video del b max ve lo avevo detto e vedo delle marche a me sconosciute vi posso garantire che di dispositivi ne ho smontato comunque è una DDR4 16 giga ricordiamoci questo processore non supporta il dual channel quindi non avrebbe avuto senso mettere due slot ed è a 2666 mega si sarebbe potuto arrivare a 3002 e di marca King Sotin che mi ricordo un po' la manzo ma ragazzi non badate alle mie parole non si riesce a capire nemmeno di che produttore Sony chip a mio avviso è una RAM estremamente economica si può andare anche a rimuovere l'SSD che è un SATA3 anche qui un brand mai visto c'è sempre da imparare e io con questi dispositivi asiatici imparo nuovi brand possiamo andare anche a sostituire la scheda di rete e questo è un altro aspetto estremamente importante SSD che dicevamo è un SATA3 è nei miei test arriva a 555 MB in lettura e 505 MB in scrittura ovviamente siamo estremamente lontani dagli NVMe ma ottimi per lo standard SATA3 alla via possiamo notare Windows 11 versione Pro 22H2 ovviamente licenziato e soprattutto privo di qualsiasi fassiosissima personalizzazione del produttore cari amici se avete bisogno di una licenza di Windows Office a prezzi veramente molto calmerati vi invito a vedere il video che vi lascio sia qui sopra che sotto in descrizione perché i prezzi sono davvero folli dei 16 GB disponibili per il sistema ne potremmo sfruttare 15.7 quindi per la scheda video se non necessari verranno allocati pochi mega ovviamente non è una soluzione da gaming i prodotti pensati per questo scopo hanno ben altre caratteristiche consumi e costo e poi soprattutto sono pieni di led perché ricordiamoci che nemici che led aumentano gli fps scherzi a parte potremmo utilizzare questo x15 con degli emulatori che ci permetteranno di giocare ai titoli della nostra infanzia o ad esempio a titoli come Counter Striker Global Offensive che troviamo gratuitamente su Steam voglio spendere pure due parole per il mio sistema operativo preferito ovvero Linux il supporto è buono una live di Ubuntu 2310 da USB si avvia senza problemi e le periferiche vengono correttamente riconosciute pur essendo solo un primo avvio tutto sembra stabile e funzionare come si deve per capire poi prestazioni gestione del calore e consumi elettrici bisogna fare dei test vi mostro i risultati di quelli che ho fatto io il resto cari amici è solo fuffa se non si fanno non si può dire nulla e le recensioni non si fanno con sensazioni o dicendo per me perché facendolo non si dà nulla di oggettivo se osserviamo i risultati dello stress test relativo alla sola CPU che ricordiamoci di essere uscita nel primo trimestre 2023 notiamo che le frequenze medie se tutte e quattro i core sono di circa 2600 quasi 2700 MHz e non si raggiunge mai il picco dei 3.4 GHz ma questo potrebbe essere dettato da innumerevoli fattori frequenza che ha pochissime oscillazioni con temperature che vanno dai 56 ai 66 gradi con una media di 63 sappiamo che il limite di sicurezza consigliato da Intel per quanto riguarda la temperatura di esercizio della sua piattaforma è di 105 gradi e qui siamo ampiamente sotto questo dimostra la bontà del sistema di dissipazione compatto e silenzioso e che probabilmente si poteva aumentare il TDP che purtroppo dal BIOS molto basilare non è modificabile inserendo nello stress test anche la GPU a piano carico le frequenze della CPU rimangono praticamente invariate sempre intorno ai 2600-2700 MHz e questo è un qualcosa di positivo e la temperatura media del core sale in media di 8 gradi oscillando tra i 64 e 76 la GPU invece rimane costantemente alla frequenza massima di 1.2 GHz e questo è il miglior risultato ottenuto da dispositivi che montano questo processore da questo punto di vista sono davvero molto ma molto che amici soddisfatto per quanto riguarda invece il consumo energetico al massimo si arriva a 35 W secondo il carico abbiamo valori compresi tra 8.35 rendendolo di fatto un notebook estremamente parco a livello di consumo e quindi abbastanza green l'unità è silenziosa facendo un rumore poco udibile anche durante il multitasking il picco che si raggiunge di rado è di 42 decibel mediamente si avranno valori sotto i 30 come già accennato ha un BIOS molto basilare dove non si può modificare praticamente nulla quindi nessun cambio per quanto concerne il TDP ma sono comunque estremamente soddisfatto ovviamente nel mio stress test la ventola stava a palla ma nell'utilizzo di tutti i giorni una situazione del genere è veramente difficile da avere anche perché se ci fosse cari amici sicuramente abbiamo sbagliato a scegliere questo dispositivo perché gli stiamo facendo fare qualcosa che non gli compete come al solito per giudicare un prodotto il prezzo sposta molto l'ago della bilancia questo dispositivo cari amici costa meno di 300 euro e a questa cifra i competitor offrono chassis completamente in plastica e processori meno performanti per non parlare di RAM quantitativo di storage oltre a Windows quasi mai in versione Pro quindi a mio avviso è una buona scelta e ho visto promo che lo rendono ancora più appetibile io nei miei test tranne gaming di titoli importanti e esportazione video ci ho fatto praticamente qualsiasi cosa e neanche lo streaming di contenuti in 4k lo impenseriscono ma tiriamo un po' le somme e vediamo gli aspetti positivi e negativi di questo Ace X15 tra i Pro prezzo sicuramente molto competitivo viste le performance consumo energetico davvero irrisorio scocca in metallo quantitativo e tipologie di porte a me cari amici questa cosa è piaciuta e non poco tra i contro invece qualche schicchiolio si sente l'assemblaggio non è fantastico scheda wifi non delle migliori ssd solo sata 3 alimentatore type c poteva essere un power delivery bene cari amici il mio video termina qui mi raccomando condividetelo e fatemi sapere con un bel like se è stato di vostro godimento noi ci vediamo in un prossimo contenuto mi raccomando attivate la campanella per non perdervelo un saluto dal masso di youtube che ora è anche su tiktok ciao 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 Grazie a tutti.